...e ogni domenica appuntamento con aze rocce e per tutti i cini con manini in parte, rosso e pomodoro, finalmente... Buonasera, benvenuti a quest'altro appuntamento con Prima Pagina e stasera ospitiamo nei nostri studi Davide Castagliuolo. Buonasera Davide, ben ritrovato. Buonasera. È un bel po' che non ci vediamo, eh, dinanzi alle telecamere tedeschi, abbiamo il piacere di averti ospite nel nostro salotto serale. È sempre un piacere. Senti, allora da Forio, consigliere comunale di maggioranza, come sta andando questa... se tu dovessi tracciare un primo bilancio così a naso di questa consigliatura foriana? Senti, amministrare un comune, come tutti sanno, è sempre una cosa difficile. Noi, l'abbiamo detto e inutile ripetere, abbiamo trovato una situazione tragica sul comune di Forio, ma ci siamo messi al lavoro, insieme al sindaco Francesco Del Deo, insieme a tutta la squadra, per risolvere i tanti problemi che attravergiamo nel paese. Naturalmente abbiamo fatto tante cose. Io ne voglio segnalare solo due o tre, perché poi, inevitabilmente, ognuno ha la sua idea sulle cose fatte e sulle cose da fare. Premetto che rimane molto, ma molto ancora da fare. E quindi penso che alcune cose fatte sono particolarmente importanti, sono la sistemazione dei conti pubblici, su cui mi sono interessato proprio io, come delegato al bilancio. Di cui vedremo tra poco, anche nello specifico, perché la domanda va fatta e va anche detto qualcosa in più rispetto a questi conti. Abbiamo ridotto sensibilmente la situazione difficile che si era venuta a creare sul comune di Forio, la situazione dei lavori pubblici, in cui tutti qua accusano chi a destra va a manca. Noi sul comune di Forio abbiamo speso in tre anni qualcosa come 12 milioni di euro dei lavori pubblici e poi, naturalmente, abbiamo dovuto mettere ordine nella situazione, diciamo, burocratica del comune di Forio, in cui per tanti anni non si era fatto niente. Sono alcuni settori in cui noi ci siamo impegnati e che hanno dato esito positivo. Naturalmente sarà la prossima amministrazione, i prossimi che verranno e che dovranno trarre profitto da questo lavoro fatto e completare quest'opera di risanamento del comune di Forio, per poi iniziare, diciamo, a programmare e a fare le cose ancora meglio di quando è stato fatto fino adesso. Prima di parlare dei conti, parliamo dei rifiuti. Questa riunione di oggi, per quanto riguarda la famosa questione dell'Ego Eco, la Super Eco, come sta andando la cosa? Sì, allora oggi abbiamo fatto una riunione finalmente con l'azienda Ego Eco e Super Eco e con i sindacati. Sono venuti i sindacalisti sia della Tribi, Cigelle, Cislevis, sia dei sindacati autonomi. Il motivo del contendere è una cosa abbastanza seria, perché sia l'amministrazione e sia i dipendenti sono dell'idea che il primo di febbraio, giorno in cui scade il contratto di solidarietà, che già stanno facendo da tre anni i dipendenti dell'Ego Eco, quindi fanno cinque ore di lavoro al giorno invece dell'orario completo, con la relativa decurtazione, deve finire e dobbiamo cominciare di nuovo a lavorare a gran completo e insieme alla rimodulazione del servizio che sta facendo l'assessorato alla nettezza urbana, dovremo ricominciare da capo a pieno regime. Quindi dal febbraio dovrebbero cambiare le cose? Questo naturalmente abbiamo chiesto all'azienda il numero esatto degli esuberi che loro sostengono che ci stanno. Tutti quanti voi sapete che noi come Comune abbiamo nel luglio del 2014 approvato un atto deliberativo con cui abbiamo modificato il contratto dell'azienda dando gli ulteriori 480 mila euro per il quinto doppio per sistemare appunto buona parte di quelli che erano stati assunti dalle sendenze esecutive della magistratura e oggi, secondo i nostri dati, i dipendenti dell'Ego Eco dovrebbero essere 63. Secondo i dati dell'azienda pare che siano ancora 66-67, questo significa che ci stanno ancora tre o quattro esuberi, secondo noi, secondo loro molti di più gli esuberi, quindi vogliamo vederci chiaro, ci siamo dati appuntamenti sia con l'azienda che sia con i sindacati entro 30 giorni di avere i dati completi con le assunzioni, con i dati, con il numero di tutti i dipendenti in esubero, diciamo in pianto organico, sia quelli in esubero. Questo fa sì naturalmente che dobbiamo arrivare come obiettivo all'azzeramento della situazione della solidarietà. Noi diciamo anche all'azienda che il lavoro che è stato fatto è una situazione difficile, noi ci rendiamo conto, deve essere naturalmente fatto continuato, ma deve essere continuato dando anche la soddisfazione ai lavoratori di unificare il contratto a tutte le cose previste dal contratto nazionale del lavoro, che questa azienda sta continuando in qualche caso a non rispettare. Ecco perché noi ci rivedremo fa 30 giorni con l'azienda e con i sindacati per completare questo discorso e per far sì che dal primo di febbraio il contratto di solidarietà si blocchi e si ricominci a lavorare a pieno regime nel comune di Foria. Anche perché poi c'è questa nuova azienda. Anche se questa nuova azienda, anche questa nuova azienda noi abbiamo chiesto tutta una serie di documentazione, anche secondo gli atti del nostro ufficio ambientale, questa azienda ci ha fornito sia il contratto sia tutta l'altra documentazione. Noi nel frattempo abbiamo provveduto a non liberare la fiducia che la vecchia azienda aveva lasciata al comune di Foria, che è di circa 500 mila euro e quindi il comune di Foria ancora rimane finché non vedremo chiaro con i nostri avvocati, con i nostri legali e con la mia insieme è stato fatto, sono state rispettate tutte le regole. Attualmente secondo i sindacati e secondo l'ufficio nostro dovrebbero essere state rispettate le regole e questo passaggio si poteva fare. Comunque aspetteremo, noi avremo comunque in mano ancora la fiducia di oltre 500 mila euro che stanno in cassa forza del comune di Foria e che non liberalizzeranno, non sarà nella richiesta dell'eco-eco finché non saranno chiare tutte queste requisite. Quindi adesso sta operando super-eco. Super-eco sta operando. In ogni caso questa situazione noi per gennaio la determineremo, perché dal primo fairbile si parte con il nuovo servizio e con la nuova contrata. E poi con il rapporto con questa nuova ditta che è sopraggiunta. Che già sta operando dal mese di ottobre questa nuova ditta, quindi già è dal mese di ottobre che sta operando. Diciamo che il comune di Foria a questa ditta sia all'eco-eco prima che alla super-eco prima, sta pagando regolarmente ogni mese 413 mila euro. Noi paghiamo ogni mese al comune di Foria 413 mila euro, complessivo di tutto, anche del rapporto del lavoro cimiteriale e questi 413 mila euro sono praticamente, l'ordine naturalmente sta il 22%, quindi sono 370 mila nette e 70 mila ogni mese di IVA, sono state pagate regolarmente e anche l'ultimo mese è stato pagato regolarmente. Noi siamo il comune, a differenza di altri comuni dell'Isola Dici, che paghiamo regolarmente, perché abbiamo creato dei capitoli d'occhio in cui ogni mese hanno i loro soldi, quindi l'azienda non si può lamentare di niente per quanto riguarda i pagamenti del comune di Foria. Questo passaggio ego-eco-super-eco come è stato? In dolore? Allora, ti ripeto, secondo i nostri legali e secondo l'ufficio nostro, l'ufficio ambiente che ha seguito questo passaggio, perché questi sono fatti tecnici che seguono gli uffici, non è che seguiamo noi, è stato fatto, secondo determinate regole, ci sono state fornite sia i contratti e sia anche la successiva fiduzione che ha fatto la nuova società e quindi era un atto che si poteva fare. C'è qualcuno dell'opposizione che sostiene che non poteva essere fatto? Noi ci siamo affidati ai legali, sono i legali che ci diranno se è stato fatto o meno. Ricordiamoci, soprattutto che questo contratto con l'eco-eco scade all'inizio del 2018, diciamo a fine 2018, inizio del 2019, quindi ci sta un altro anno e più che dura questo contratto e noi abbiamo tutta intenzione di far rispettare le regole sia dall'eco-eco sia dal super-eco successivamente. Dicevamo prima i conti, i conti tornano a Forio? Allora, ognuno di voi sa che noi come amministrazione, ma nel cui il sindaco Francesco D'Aordeo ha preso in carico questa amministrazione, si impegnò a non aumentare le tasse per almeno tre anni, sono passati tre anni, adesso è il quarto anno che questa amministrazione è in carica, il Comune di Forio non ha aumentato nessuna tassa, né la nettezza urbana, né l'Imu, né perfino neanche il suolo pubblico è stato aumentato, niente è stato toccato. Nonostante tutto questo contenimento della situazione fiscale del Comune di Forio, noi abbiamo pagato fino adesso tutti i debiti fino al 2012, sono stati pagati circa 8 milioni di euro, l'ho spiegato nell'ultimo Consiglio Comunale, ma molti dei consiglieri di opposizione non vogliono capire, o naturalmente fanno finta di non capire, basta leggersi il consuntivo 2013, 2014 e 2015, in cui risulta, noi abbiamo pagato nel 2013 un milione e 600 mila euro di debiti passati, nel 2014 un milione e 400, un milione e 6 nel 2015, tutti questi, diciamo, tutti questi consuntivi, eccetto il 2014 in cui la Corte dei Conti ha chiesto chiaramente, sono stati regolarmente approvati dalla magistratura contabile e quindi noi abbiamo pagato qualcosa con 8 milioni di debiti della precedente amministrazione. Più stiamo chiudendo quella situazione debitoria che molte volte qua in questa sede ne abbiamo discusso violentamente con molti consiglieri di opposizione, quella che riguardava la Pegaso, l'ex società, quella famosa società da cui è nata poi la Torre Saraceni. La Pegaso chiuse con un bilancio di 13 milioni di euro. Il giudice fallimentare ha fatto una proposta al Comune di Forio e agli altri soci per un pagamento definitivo di 1 milione e 500 mila euro dopo un anno e mezzo di contenzioso, quindi il Comune di Forio si è dichiarato disponibile a chiuderla pagando 1 milione e 500 mila euro in tre anni. Quindi se chiudiamo anche questa situazione rimane come bubone soltanto la Torre Saraceni. Per la Torre Saraceni in questi giorni è stato presentato il bilancio, anche là è una situazione che stiamo gestendo e che dovremo trovare una soluzione in più bilanci naturalmente. Tutte queste cose, non dimentichiamo, sono debiti che sono maturati in 20 anni e che molto, diciamo, scrupolosamente questa amministrazione si assumono la responsabilità di pagare, perché noi abbiamo pagato, come dicevo, 8 milioni di debiti. Noi potevamo fare benissimo con 8 milioni di euro, non so, una scuola nuova, potevamo asfaltare tutta Forio, potevamo fare determinate scelte, potevamo assumere decine di persone o dare consulenze, incariche, c'è. Noi con responsabilità abbiamo pagato i debiti. Tenete presente nel Comune di Forio, dal 2013 a oggi non è stato fatto un incarico, non è stata data una consulenza, non è stata fatta una sponsorizzazione. Noi non abbiamo speso i soldi per niente, anche per fine, ci contestano adesso le luminarie, le famose luminarie del Comune di Forio, sono diventate anche quelle. Adesso però abbiamo avuto il piacere di sentire l'associazione albergatori e l'associazione commerciante che si dice favorevoli, perché pare che sia venuto un bel progetto ed è stato approvato anche da queste categorie, naturalmente. Ma noi abbiamo speso 69 mila euro per fare tutto questo, non è che abbiamo speso 600 mila euro, 69 mila euro. L'anno scorso ne furono spese 40 mila e tutti si lamentavano. Quest'anno, fortunatamente, pare che la cosa sia andata molto, ma molto meglio. Naturalmente, io dico queste cose, ci stanno mille altri problemi sul Comune di Forio, che dovremo gradualmente affrontare. E tutti questi problemi, io penso che c'è bisogno di una squadra, di un'amministrazione compatta che possa affrontare. L'opposizione io li capisco, fanno il loro lavoro, io sono stato a loro opposizione per dieci anni, quindi li capisco perfettamente. Quelli che non condivido è quando si sbragano in attacchi personali o quando pensano che risolvono i problemi denunciati alla magistratura o come fa qualcuno all'ATAC, al famoso anticorruzione, eccetera. Tutti questi atti, secondo me, sono sbagliati perché in un piccolo Comune bisogna gestirlo, amministrarlo. Qua non si fa politica, diciamo, a livello nazionale. Qui si fa amministrazione, non politica. E su questo noi ci confronteremo, quando vogliono, con le opposizioni. A proposito di opposizioni, insomma è un Consiglio Comunale che ha cambiato numeri in corso d'opera. All'inizio c'era un gruppo di opposizione, poi man mano si è irrobustito con una serie di pezzi che sono andati via dalla maggioranza. Quindi adesso i numeri ogni tanto vacillano o no? Sì, i numeri, diciamo, ma sono ancora compatte. Noi siamo ancora 12 consiglieri comunali, compresi il sindaco, le bastano 9. E' chiaro che ci sono stati alcuni consiglieri che sono stati eletti in maggioranza, sono passati all'opposizione ritenendosi non soddisfatti di quello che veniva fatto dall'amministrazione. Io dico sempre, chi è stato eletto in un determinato, io almeno ho fatto per 30 anni il Consiglio Comunale, non sono mai passato da un partito all'altro. Ho lasciato la maggioranza, ma voglio dirti, per andarmene a casa, non per passare in altri ognuno fa le sue scelte personali. Io ritengo che questa amministrazione abbia i numeri e le capacità per portare a termine questo, diciamo, questo quinquennio. Questo mandato, quindi, che va... Fino ad aprile dell'anno prossimo, del 2018, quindi ci sta un altro anno e mezzo, sostanzialmente, anno e qualche mese. Naturalmente io non condivido quello che è stato fatto, per esempio, dal Consigliere Staneverdi, far ricorso alla magistratura amministrativa contro il bilancio di previsione. Se ci sta nei numeri bisogna contestare nei numeri. Far ricorso per far venire il Commissario Prefettizio nel Comune di Forio, secondo me, è un errore. Però sono scelte che ognuno, come opposizione fa, sono scelte dal mio punto di vista sbagliato, perché il Comune di Forio ha bisogno di essere amministrato. E c'è spazio, io lo dico sempre, per tutti. Uno dei punti forti del nostro sindaco è quello di dare la disponibilità a tutti di amministrare. Io non ho avuto mai, col sindaco attuale, mi ha bloccato su qualcosa. Lui dà libertà di azione ai consiglieri, agli assessori, a tutti quelli che vogliono lavorare. Naturalmente mi rendo conto che è difficile lavorare ed è difficile impegnarsi. Ecco perché io dico a tutti, soprattutto ai giovani, venite ad amministrare. Fra un anno ci saranno le elezioni. Candidatevi, venite ad amministrare questo Comune, vi rendete conto delle difficoltà, dei problemi che ci stanno, della burocrazia che ti blocca per ogni cosa. Quindi prima di contestare, ognuno deve avere la capacità di venire a sporcarsi le mani, a mischiarsi in questa amministrazione e poi contesti. Io penso che quella di Francesco Del De è una delle migliori amministrazioni che abbia avuto il Comune di Forio e soprattutto una delle amministrazioni più responsabili. Senti, dicevi prima i lavori pubblici. Sono stati fatti una serie di lavori? Sì. Diciamo il Comune di Forio ha fatto una serie di lavori in questi anni che vanno dalla sistemazione delle scuole di Panza e di Forio, la Standa Caterina e Luca Balzoferro dove abbiamo speso 2 milioni di euro, la sistemazione delle scuole. Tutto il sistema fognario che ci viene contestato con gli tanti scoppi o qualche tombino. Si pensa al tombino perché i lavori non sono stati completati. Adesso, penso che questa è la notizia, già la sapete, a gennaio inizieremo l'altra parte dei lavori che dalla chiesa del quota arrivano a Panza. Quindi è un altro 2 milioni di euro che servono per collegare, per evitare, più sarà fatto il tratto che da piazzare la città era porta sotto a Poseidon per portare definitivamente a combimento questo tracciato della fogna che deve risolvere tutti i problemi dell'acqua che arrivano dal Serrara, dal Ciglio e perfino da altre zone, diciamo, tutte le zone a monte perché tutto quello verrà tutto inganalato, una parte andrà alle pietre rosse e una parte arriverà a città. Ma finché non saranno completati questi lavori, il problema del tombino sorgerà ancora, succederà ancora che quando ci stanno montagne d'acqua qualche tombino salterà. Abbiamo avuto la sfortuna in questo primo lotto di lavori di avere una ditta che si ha creato una serie di problemi non rispettando il contratto. Abbiamo dovuto disdire i contatti, contestare alla ditta, fare alcuni lavori in danno, eccetera. Io penso che il nuovo appalto che sarà fatto a breve dall'ufficio, dovrebbe essere all'inizio dell'anno, che questi lavori devono essere terminati entro giugno. Avremo una ditta diversa e quindi possiamo cominciare a discutere di lavori fatti abbastanza bene. Un altro lavoro che è venuto bene per esempio tutto il molo Borbono con l'illuminazione. Passate la sera adesso, divertitevi a passare alla zona del molo di Forì, dove presto faremo delle manifestazioni, organizzeremo delle cose. Perché là adesso è uno spettacolo. O l'illuminazione del soccorso, che abbiamo speso altri 800 mila euro. Oppure via Rione Pescatori, dove tutto è stato fatto, il vecchio tracciato del Rione Pescatori, o il tracciato di via del Torrione, dove è stato fatto anche là, fino alla Torrione, tutto il tracciato con la sistemazione. Sono stati spesi soldi a via Bucca, a via Corbara, alla zona di via Provinciale Pana. Una serie di lavori sono stati fatti. Adesso inizieranno a breve, penso anche questi a gennaio. Si completerà il tratto vicolo dei Saraceni. Sarebbe il tratto davanti alla fontana di Forì, San Giovanni, San Vito, via Cesaro Pira. Tutte quelle zone là saranno sistemate con quell'altro finanziamento che abbiamo avuto e che serve appunto per questo. Spero, spero che inizieremo a breve anche il primo piano del comune di Forì. Quindi una serie di lavori pubblici che l'amministrazione ha messo in gambo, ha sistemato, ha avuto i finanziamenti e ha messo in opera. È chiaro che se chi viene a contestare fa l'opposizione, si avete fatto la fogna però il tombino salta, avete fatto il via Torrione però c'è lo scalino che non va bene. Non è un modo di fare. Voi dovete avere un quadro complessivo. Io cerco di spiegarlo in Consiglio Comunale. Naturalmente ognuno porta acqua al suo mulino e loro fanno l'opposizione in questo modo. È chiaro che per fare questi lavori c'è stato bisogno di avere rapporti sia con la provincia, ex attuale città metropolitana, sia con la regione. Anche con la provincia per esempio abbiamo sbloccato fortunatamente dopo 7-8 anni, dal 2007, quindi dopo 8 anni, quel tracciato sulla strada via sopra il scoglio degli innamorati. Tutta la strada è bloccata. Finalmente con la provincia abbiamo sbloccato quel minone eccetera. Presto dovrebbero iniziare i lavori proprio là, dal costone Santa Lucia fino all'Aquila. Dovrebbe essere fatta tutta la protezione a mare e aperta la strada. La famosa storia lì che franava e veniva giù. Esattamente. Quello è un finanziamento di 1 milione e 200 mila euro della provincia. Dopo vari incontri alla provincia, sia il sindaco, sia il mieco, dei magistri e altri funzionari naturalmente, e sia via Spinavolo, sarebbe dietro al campo sportivo, dove viene sistemata anche là tutta quella strada, che è anche strada provinciale e che dovrebbe essere sistemata. Tutti questi lavori naturalmente c'è bisogno di impegni, perché una delle cose che io non apprezzo più della politica è il fatto che negli anni passati ci stavano dei rapporti diretti. Tu avevi dei rapporti con i dirigenti, con i funzionari, con i politici della regione, della provincia. Oggi tutti questi sono liquefatti, non esistono più politici che si interessano dall'isola d'Istia. Abbiamo portato, hanno portato veramente, migliaia di voti agli amici di De Luca, ma questi sull'isola d'Istia non fanno assolutamente niente, come non hanno fatto niente per l'ospedale, non fanno niente per il trasporto, non fanno niente anche per i lavori pubblici. Allora tutti questi finanziamenti. Noi siamo riusciti ad averli avendo una serie di contatti con i funzionari, ma i politici nella regione ci danno ben poco. Ecco perché poi abbiamo la gente, vota in un certo modo, vota il no, diciamo anche, faccio una discrezione, vota il no perché molta gente contesta il modo di amministrare della regione e del governo, anche sull'isola d'Istia. Ecco perché poi si spiega il 70% di no, perché molta gente si è, diciamo, rotto effettivamente le scatole di questo modo di amministrare che ha la regione e la provincia sull'isola d'Istia. Senti, tu sei pronto allora per un'altra campagna elettorale? No, io anzi, te lo dico in anteprima, io per quanto riguarda la politica penso di aver finito, ho fatto per circa 30 anni il consigliere comunale, il vice sindaco, l'assessore eccetera, adesso è il tempo di passare la mano ad altra generazione che deve avere, io perciò parlavo dei giovani, perché devono avere la capacità di impegnarsi, di impegnarsi per il proprio paese e di risolvere i problemi del genere. Io penso che come, diciamo, candidatura e come l'Ist ho finito qua. Daremo una mano naturalmente ai giovani, alle nuove generazioni che vogliono farsi le osse. Io iniziai negli anni 80 quando appena ho laureato, la loro azione cattolica, io facevo parte dell'azione, ci spingeva a scendere in politica per interessarci anche del, e noi, molti di noi ci sono invaliti in quelli anni, tra cui il sindaco attuale Francesco Aldeo, Caetano Colilla, Antonio Trofo, Paolo Ambrassini, io e altri a Forio, a Disti era all'epoca di Enzo Vazella, di Paolo Ferrandino, di Brandi ed altro, in ogni comune noi eravamo spinti per fare, appena ho laureato scendemmo in campo e abbiamo dato una mano per risolvere tanti e tali e tanti problemi. Se si fa una differenza agli anni 80 a oggi si capisce quali problemi ha risolto l'Isola Disti. Naturalmente adesso è il momento, che una nuova generazione scende in campo e si impegni a gestirlo questo Paese e ad amministrarlo. Una nuova generazione che noi stiamo cercando di allevare sul Comune di Forio, dando tutti gli ingari e tutti i mandati possibili. Io penso che i giovani, anche se molti di loro sono scocciati, non vogliono interessarsi ai politici, devono avere la capacità di impegnarsi e soprattutto l'orgoglio di lavorare per il proprio Paese, lavorare a titolo gratuito per il proprio Paese. Perché io ho una cosa di cui mi mando sempre, io ho fatto il Vice Sindaco, l'Assessore, il Consigliere Comunale, l'ho fatto sempre a titolo gratuito. Mai chiesto indennità, mai avuto indennità, sempre a titolo gratuito. Nonostante, diciamo, ci stavano alcune indennità che potevamo avere tutti quanti. Io ho sempre, e cercando di conciliare sia il lavoro in ufficio, il lavoro in banca, e quindi dovevo conciliare il lavoro in ufficio con il lavoro come Consigliere Comunale e come Assessore. Spero di averlo fatto bene, ma noi per un altro anno e mezzo lavoreremo ancora. Abbiamo ancora da fare. Avremo ancora da fare e lavoreremo per risolvere altri problemi del Comune di Forio. Bene, noi ci vedremo sicuramente in un'altra occasione per sentire quali altre cose sono state poi fatte e portate poi a compimento di Forio. Grazie, è sempre con piacere. Grazie a Davide Castagnolo, vi ringrazio per averci seguito e ci vediamo al prossimo appuntamento. Buonasera a tutti, arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti.